Io sono Manuel, chiodo di Fuoco negli occhi, siamo qui, stiamo andando a Tuzla, al Kaleidoscope Festival, stiamo andando a proporre un laboratorio musicale, un laboratorio sulla cultura hip hop. Questa cultura è sempre stata un buon punto d'incontro e un buon linguaggio comune, quindi al di là della cultura di provenienza, al di là delle etnie, al di là della situazione storico-politica di ogni paese, e noto che l'hip hop è un buon tavolo comune in cui scambiarsi idee e in cui confrontarsi. Ciao, sono Vincenzo Scorza, stiamo partendo con questa delegazione di artisti residenti a Bologna. Io mi occupo di musica elettronica e a Tuzla porterò una performance audio-video dal vivo, intitolata Circa. Mi chiamo Giulia e sto andando a Tuzla a presentare il film This is my story, or ours, del regista Reda Zinn, che è un prodotto del progetto europeo Amitié. Io ho lavorato, ho svolto un tirocino al comune di Bologna con la project manager del progetto europeo Amitié durante sei mesi. Sono Filippo Fero, nato a Bologna, sono venuto a Tuzla per il workshop di graffiti. La bellezza di questo movimento è che non ha quasi bisogno della lingua, il linguaggio condiviso è un altro, il linguaggio condiviso è appunto un codice interno alla cultura, quindi è molto bello quando si va in posti nuovi, non conosciuti o comunque in cui non si hanno contatti. È molto bello fare esperienza di questa comunicazione che è slegata dalle esperienze personali, è slegata dalla conoscenza linguistica. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.